Sono due le offerte depositate entro il termine del Bando Europeo per l'affidamento del servizio regionale di TPL su gomma e marittimo scaduto oggi alle ore 12 e 30. Si tratta da un lato della società Bus Italia Sita Nord SRL, Autoguidovie SPA e dall'altro della società TPL FVG SCARL in cui si sono riuniti gli attuali gestori del servizio di trasporto pubblico locale TPL su gomma in Friuli Venezia Giulia. Lo ha reso noto l'assessore regionale alle infrastrutture e alla mobilità Maria Grazia Santoro. Dopo il contenzioso che si è svolto nei mesi scorsi e alla conseguente modifica del Bando relativamente all'obbligo d'acquisto e alla contestuale riapertura dei termini, siamo giunti a questo momento in cui finalmente saranno valutati i valori tecnici ed economici relativamente alle offerte pervenute, ha commentato l'assessore Santoro. Dopo la verifica della regolarità dell'offerta della presenza dei requisiti per la partecipazione al Bando, ha aggiunto l'assessore, la commissione di gara dovrà entrare nel concreto della valutazione di tutte le migliorie proposte. Potremmo presto concentrarci sull'avvio dei nuovi servizi al fine di poter al più presto valorizzare i contenuti innovativi del Bando di gara anche in termini di maggiore diffusione, qualità e attrattiva del TPL. Il programma di gara europea e a procedura aperta era stato pubblicato a dicembre 2014 per l'affidamento per i prossimi dieci anni, prorogabili per ulteriori cinque, dei servizi automobilistici urbani ed extraurbani e dei servizi marittimi di trasporto di persone di competenza della regione Friuli Venezia Giulia per un importo complessivo di 1 miliardo 774.482.272.70 euro.